Colpo grosso questa notte presso la sede del gruppo Sant'Anna Farmacie nella zona industriale di Bellizzi. Intorno all'1.30 quattro malviventi si sono introdotti all'interno della struttura forzando il sistema di sicurezza e sfidando a volto scoperto l'impianto di videosorveglianza. Oltre ai vetri rotti e alle porte di Velte si sta verificando l'entità di ulteriori danni provocati dagli autori del furto. Ancora non quantificato il valore della refurtiva. Ci auguriamo e il commento del General Manager Nicola Pellegrino che chi ha commesso questo atto venga assicurato alla giustizia. Inutile dire che questo episodio nominerà in alcun modo la nostra attività. Insieme ai miei collaboratori anzi proseguiremo con ancora più ardore e passione nel nostro lavoro.